In questo tutorial vediamo come risolvere equazioni di grado superiore al secondo utilizzando il teorema di Ruffini. Partiamo da questo esempio. Ho un'equazione di terzo grado e un modo per risolvere questa equazione è andare a utilizzare proprio il teorema di Ruffini. Come prima cosa scriviamo il polinomio associato a questa equazione. Ed ora andiamo a determinare i divisori del termine noto, ossia di 3, e sono più o meno 1 e più o meno 3. Tra questi numeri andiamo a determinare lo 0 del polinomio, ossia quel numero che è sostituito alla x mi da 0. Proviamo con p di 1, ossia al posto della x andiamo a sostituire 1. E allora ho 1 alla terza che è 1 per 10 e scrivo 10. Poi 1 alla seconda è 1 per meno 7 e scrivo meno 7. Meno 14 per 1 ottengo meno 14. Ed infine ricopio il più 3. Sommando questi numeri si ottiene meno 8, si ottiene meno 8, che è una quantità diversa da 0. Allora 1 non è uno 0 del polinomio. Proviamo con meno 1. E allora vado a scrivere p di meno 1. E allora meno 1 alla terza è meno 1 per 10 ed ottengo meno 10. Meno 1 alla seconda è 1 per meno 7 e scrivo meno 7. Meno 14 per meno 1 ottengo più 14 più 3. Sommo ora meno 10 meno 7 e ottengo meno 17. 14 più 3 ottengo 17 e quindi complessivamente ottengo 0. Allora meno 1 è uno 0 del polinomio, ossia sostituendo al posto della x meno 1 si ottiene 0. Per il teorema di Ruffini allora posso dire che il polinomio p di x è fattorizzabile e il primo fattore è x meno questo numero e quindi meno meno 1 scrivo più 1 per qualcos'altro, ossia l'altro fattore lo devo andare a determinare e per determinarlo posso utilizzare la regola di Ruffini. Ricopio i coefficienti del polinomio e il polinomio deve essere ordinato e completo. 10 è il coefficiente di x cubo, meno 7 è il coefficiente di x quadro, meno 14 è il coefficiente di x e 3 è il numero. Qui vado a ricopiare lo 0 del polinomio, ossia meno 1. Ora abbasso il 10 e moltiplico 10 per meno 1 ottenendo meno 10 che ricopio sotto la colonna di meno 7. Meno 7 meno 10 ottengo meno 17 ed ora meno 17 per meno 1 ottengo più 17 che ricopio sotto la colonna di meno 14. Meno 14 più 17 ottengo 3 e 3 per meno 1 ottengo meno 3 che ricopio sotto il 3. Infine 3 meno 3 ottengo 0. Ricordo che qui, che risulta essere il resto della divisione sostanzialmente, devo ottenere sempre 0. 10 meno 17 e 3 sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore al polinomio di partenza, ossia 10 è il coefficiente di x quadro, meno 17 è il coefficiente di x e 3 risulta essere il numero. E allora qui, al posto dei puntini, posso cancellare e andare a scrivere 10x alla seconda meno 17x più 3. Ora ritorno all'equazione di partenza. Il primo membro lo riscrivo in questo modo. L'equazione scritta così la so risolvere ponendo il primo fattore uguale a 0 e allora scrivo x più 1 uguale a 0, da cui si ottiene x uguale meno 1 e poi pongo il secondo fattore uguale a 0. Avendo un'equazione di secondo grado la risolvo utilizzando la formula risolutiva. A conti fatti si ottengono due soluzioni, tre mezzi e un quinto e allora le soluzioni di questa equazione saranno meno 1, tre mezzi e un quinto. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa devo riscrivere l'equazione in forma canonica eseguendo questa moltiplicazione ed ottengo x alla terza più 8 più 6x alla seconda più 12x uguale 0. Riscrivo ora l'equazione in maniera ordinata, ossia dal termine maggiore al termine minore e quindi ho x alla terza più 6x quadro più 12x più 8 uguale 0. L'equazione che ottengo è un'equazione di terzo grado che voglio risolvere utilizzando il teorema di Ruffini. Considero il seguente polinomio che si ottiene prendendo il primo membro dell'equazione ed ora vado a determinare i divisori del termine noto, ossia di 8, e sono più o meno 1, più o meno 2, più o meno 4 e più o meno 8. Vado ora a determinare tra questi numeri lo 0 del polinomio, ossia devo determinare quali tra questi numeri sostituiti al posto della x mi danno come risultato 0. Osservo che nel polinomio vi sono tutti più, quindi è inutile andare a provare i numeri positivi in quanto la somma di numeri positivi poi alla fine non può essere uguale a 0 e allora provo direttamente con meno 1, poi con meno 2, poi con meno 4 ed infine con meno 8. Sostituendo al posto della x meno 1 otteniamo una quantità diversa da 0 e quindi dobbiamo andare avanti. Proviamo ora con p di meno 2 e allora al posto della x mettiamo meno 2, meno 2 alla terza ottengo meno 8, meno 2 alla seconda è pari a più 4 per 6 e scrivo più 24, poi 12 per meno 2 ottengo meno 24 e poi ho 8. Posso semplificare 24 con meno 24 e meno 8 con 8. Insomma, a conti fatti, si ottiene 0. Allora posso dire che meno 2 è uno 0 del polinomio, ossia sostituendo al posto della x meno 2 si ottiene 0 e quindi per il teorema di Ruffini posso dire che il polinomio è fattorizzabile e il primo fattore è x meno questo numero, ossia meno meno 2 e quindi scrivo x più 2 per qualcos'altro. L'altro fattore lo possiamo determinare utilizzando la regola di Ruffini. 1, 6, 12, 8 sono i coefficienti del polinomio ordinato e completo. Qui vado a scrivere lo 0 del polinomio che risulta essere meno 2. Ora abbasso l'1 e moltiplico 1 per meno 2 ottenendo meno 2. 6 meno 2 scrivo 4, 4 per meno 2 ottengo meno 8, 12 meno 8 ottengo 4 e poi 4 per meno 2 ottengo meno 8 ed infine 8 meno 8 ottengo 0. 1, 4, 4 sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore. In particolare 1 è il coefficiente di x quadro, 4 è il coefficiente di x e quest'altro 4 risulta essere il numero. E allora qui, al posto dei puntini, posso cancellare e andare a scrivere x alla seconda più 4x più 4. Posso ora ritornare all'equazione di partenza, ossia questa, e riscrivere il primo membro in questo modo. L'equazione scritta così la so risolvere ponendo il primo fattore uguale 0 e quindi scrivo x più 2 uguale 0, da cui si ottiene x uguale meno 2 e poi pongo uguale a 0 l'altro fattore, ossia x alla seconda più 4x più 4 uguale 0. Questa equazione è un'equazione di secondo grado. Potrei applicare la formula risolutiva, però mi rendo conto che il primo membro è un quadrato di binomio, ossia x più 2 al quadrato, tutto quanto uguale 0. Scritta così l'equazione mi consente di estrarre la radice quadrata di tutte e due membri e posso semplificare la radice quadrata con il 2 ed ottengo x più 2 uguale a 0, da cui x uguale meno 2. E allora posso dire che la soluzione meno 2 è soluzione dell'equazione. In teoria lo stesso esercizio l'avrei potuto risolvere senza il teorema di Ruffini, rendendomi conto che il primo membro non era nient'altro che un cubo di binomio, ossia x più 2 tutto quanto alla terza uguale 0. L'equazione, se l'avessi scritta in questo modo, l'avrei risolta in un attimo, in quanto avrei estratto la radice cubica di tutte e due membri. Semplificata la radice con la potenza 3, ricordando che radice cubica di 0 è pari a 0, otterrei x più 2 uguale 0, da cui x uguale meno 2. Risolviamo quest'altro esercizio. Come prima cosa effettuiamo queste due moltiplicazioni e riscriviamo l'equazione in forma canonica. Ottengo in questo modo un'equazione di terzo grado che voglio risolvere utilizzando il teorema di Ruffini. Considero il polinomio P di x che si ottiene prendendo il primo membro dell'equazione ed ora vado a determinare i divisori del termine noto, ossia di meno 6, e sono più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6. Vado ora a determinare tra questi numeri lo 0 del polinomio. Si può verificare che uno 0 di questo polinomio si ottiene con meno 2, in altre parole sostituendo al posto della x meno 2, otteniamo 0. E allora, visto che meno 2 è uno 0 del polinomio, per il teorema di Ruffini il polinomio è scomponibile e il primo fattore sarà x meno lo 0, ossia meno lo 0 del polinomio, ossia meno 2, e quindi x meno meno 2, e allora scrivo x più 2 per qualcos'altro. L'altro fattore lo vado a determinare utilizzando la regola di Ruffini. Ricopio i coefficienti del polinomio, e il polinomio ricordiamo che deve essere ordinato e completo, e qui vado a scrivere lo 0 del polinomio, ossia meno 2. Ora, abbasso il 2 e moltiplico 2 per meno 2, ottenendo meno 4. 9 meno 4 e scrivo 5, 5 per meno 2 ottengo meno 10, 7 meno 10 ottengo meno 3, e poi meno 3 per meno 2 ottengo 6, ed infine meno 6 più 6 ottengo 0. 2, 5 meno 3 sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore al polinomio di partenza, e allora 2 sarà il coefficiente di x quadro, 5 il coefficiente di x, e 3 risulterà essere il numero. E allora qui posso cancellare i puntini e scrivere 2x alla seconda più 5x meno 3. Posso ora ritornare all'equazione di partenza, scrivendo il primo membro in questa maniera. Ho così un'equazione che so risolvere, ponendo il primo membro uguale 0, e allora vado a scrivere x più 2 uguale a 0, da cui si ottiene x uguale meno 2, e poi pongo uguale a 0 il secondo membro, ossia 2x alla seconda più 5x meno 3. Ho così un'equazione di secondo grado che vada a risolvere. A conti fatti si ottiene meno 3 e un mezzo, e allora le soluzioni di questa equazione sono 2 meno 3 e un mezzo. Vediamo quest'ultimo esempio e risolviamo questa equazione di terzo grado. Voglio sempre utilizzare il teorema di Ruffini e allora considero il polinomio che si ottiene prendendo il primo membro dell'equazione, ossia 2x alla terza meno 5x meno 6. Vado a determinare i divisori di meno 6, che sono più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3 e più o meno 6. Ed ora tra questi numeri cerco lo 0 del polinomio. Parto da 1 e quindi scrivo p di 1. In altre parole al posto della x sostituirò 1 ed ottengo 1 meno 5 meno 6, che risulta essere diverso da 0. Provo ora con p di meno 1 e allora al posto della x sostituirò meno 1. Meno 1 al cubo ottengo meno 1, per 2 ho meno 2, meno 5 per meno 1 ho più 5, meno 6 e ho di nuovo diverso da 0. Provo ora con p di 2 e allora vado a sostituire al posto della x2. 2 alla terza ottengo 8 per 2 e scrivo 16. Poi meno 5 per 2 ottengo meno 10, meno 6. Questa volta ottengo 0. E allora posso scrivere che 2 è uno 0 del polinomio, ossia sostituendo al posto della x2 si ottiene 0. Per il teorema di Ruffini il polinomio è scomponibile e il primo fattore sarà x meno questo numero, e allora scrivo x meno 2, per qualcos'altro, ossia un altro fattore che devo andare a determinare. E per determinarlo utilizzerò la regola di Ruffini. 2, 0, meno 5, 6 sono i coefficienti del polinomio scritto in forma ordinata e completa. 2 è il coefficiente di x cubo, 0 è il coefficiente di x quadro, in quanto qui non è presente x quadro, meno 5 è il coefficiente di x e meno 6 è il numero. Qui vado a riscrivere lo 0 del polinomio, ossia 2. Ora abbasso il 2 e moltiplico 2 per 2, ottenendo 4. 0 più 4 ottengo 4 e 4 per 2 si ha 8 e poi meno 5 più 8 ottengo 3. Ora 3 per 2 ottengo 6 ed infine meno 6 più 6 ottengo 0. 2, 4 e 3 sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore al polinomio di partenza. In particolare 2 sarà il coefficiente di x quadro, 4 il coefficiente di x e 3 il numero. E allora qui, al posto dei puntini, posso cancellare e andare a riscrivere il polinomio 2x alla seconda più 4x più 3. Ora ritorno all'equazione di partenza e il primo membro lo riscrive in questa maniera. L'equazione così scritta la so risolvere ponendo uguale a 0 il primo fattore e allora vado a scrivere x meno 2 uguale a 0, da cui si ottiene x uguale 2, e poi pongo uguale a 0 il secondo fattore. Ottengo un'equazione di secondo grado che vado a risolvere. Applicando la formula risolutiva mi rendo conto che il discriminante risulta essere minore di 0 e allora questa equazione risulterà essere impossibile e quindi l'unica soluzione di questa equazione sarà x uguale 2. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere equazioni di grado superiore al secondo utilizzando il teorema di Ruffini.